Intenta un processo Libera intelligenza è una setta nata a Bruxelles verso la metà del Trecento, imparentata con la setta del Libero Spirito. Dei suoi seguaci si conoscono soltanto il carmelitano Guglielmo di Inder Nissen e il suo discepolo Egidio Cantor. Nel 1410, Pierre D'Ailly, vescovo di Cambrai, intenta un processo ai seguaci della libera intelligenza. Guglielmo di Inder Nissen è condannato a tre anni di carcere e alla clausura perpetua in un convento. Sulla sorte degli altri aderenti alla setta non si hanno notizie. Perché? Commento Perché la Chiesa ha sempre annientato i suoi oppositori, come è il successo di recente. Ma è una vittoria sempre più debole.